Abbandonati a poche ore dalla nascita in dei sacchi di plastica lungo una strada di campagna, strappati via dalla loro madre che ora cercano in vano in una scatola di cartone. Sono cinque cuccioli di cane, quattro maschi e una femmina, ritrovati a Gubbio nella frazione di Torre Calzolari. Ora sono stati affidati al canile comunale in località Ferratelle. Qui, a prendersi cura di loro, c'è il distretto sanitario della ASL e le attente volontarie della Gubbio Soccorso e di EMPA, che con cura, amore e passione li hanno prima recuperati e poi coccolati per quanto possibile, cercando prima di sfamarli. L'urgenza ora infatti è quella di trovare dei cani da balia che possano allattare i cuccioli. Non prima di 60 giorni, poi cinque cagnolini potranno essere adottati, dopo aver effettuato tutte le vaccinazioni e dopo averli muniti di microchip. L'abbandono dei cuccioli ha creato indignazione nel mondo social, dove rapido è stato il passaparola di quanti hanno cercato di rimediare ad un atto meschino e insensibile, mobilitandosi per rintracciare delle cagnoline balia. Siamo rimasti stravolti da questo episodio, commenta Katia Ghigi, volontaria da sempre attiva per la tutela del mondo animale. Vedere cose del genere ci riporta indietro nel tempo. Abbandonare un animale è un atto incivile e un'enorme mancanza di rispetto. Sì perché, malgrado il fenomeno sia progressivamente calato negli anni, si assiste ad una lieve ripresa delle cessioni e degli episodi di abbandono, come confermato da Ernesta Cambiotti, presidente di Animal Mind Italia. Ciò non riguarda soli cani, ma soprattutto i gatti. La situazione per questi ultimi è tragica, spiega ancora Katia Ghigi. È un continuo di segnalazioni e di abbandoni di gatti. Tanti vengono avvelenati, presi con i lacci, investiti e alcuni perfino impallinati. Negli anni abbiamo salvato centinaia e centinaia di esemplari. Enorme le difficoltà dei volontari, che spesso si prendono cura direttamente degli animali e provvedono di tasca propria ad acquistarne il cibo. C'è poca sensibilità, ha spiegato ancora Ghigi, nei confronti dei gatti e dell'importanza della sterilizzazione. La speranza è che ci sia un aiuto concreto delle istituzioni e una maggiore attenzione al tema della gestione degli animali d'affezione.